Siamo in compagnia di Roberto Cacciapaglia, musicista che ha girato il mondo questa sera a Gioiosa Marea per proporre i brani dei suoi ultimi lavori. Lo salutiamo intanto e cominciamo subito con la prima domanda che naturalmente non poteva essere diversa. Qual è il suo legame con Gioiosa Marea? Che bella domanda, è un legame plurimo diciamo così, perché sia il fatto che mia madre è di Gioiosa per cui questo luogo per me è straordinariamente profondo. Questa spiaggia la frequento da quando sono bambino, ho tantissimi amici per cui suonare qui è un evento devo dire straordinario e importante per me. E poi è un luogo meraviglioso diciamo, ci sono tutti gli elementi, c'è l'aria, il mare, il sole, quindi la musica io lavoro molto sui poteri del suono che quindi si mettono in connessione proprio con la natura. Le vibrazioni sonore entrano in questi luoghi e penso che questo dovrebbe creare un'alchimia, quella che diciamo nel mito di Orfeo era, incantava i delfini e faceva danzare gli alberi. Io penso che bisogna ritornare a queste cose. Parlando proprio della sua musica possiamo dire che il genere sarebbe musica classica, che in realtà non è la classica musica classica perché c'è molta sperimentazione. Belle domande, la ringrazio perché è vero, perché la musica classica diciamo segue una tradizione europea che quindi oggi non basta più, dobbiamo aprirci a tutte le etnie e anche andare al di là, diciamo dalla musica preistorica, quello che era il suono proprio. Parlavo del mito di Orfeo, io mi rifaccio molto a Pitagora, anche ai pitagorici, che oltre alla tabellina ci ha lasciato proprio uno schema della musica e degli armonici che è legato allo schema dell'universo. Quindi oggi si può parlare di una musica che prende le sue influenze da ogni luogo, sia anche della musica popolare, dalla musica rock, il potere del suono. Non possiamo fare riferimento soltanto alla musica classica europea, ma oggi poi con internet siamo in contatto con le ultime tendenze della musica americana, oppure con il suono degli aborigini australiani, con la musica africana, con le etnie, con la musica siciliana. Eccoci qua. Quindi la musica deve aprirsi, deve andare, deve espandersi. Io ho fatto un CD, il penultimo, che si chiamava Ten Direction, Dieci Direzioni, proprio il suono che si espande senza limiti. Proprio in, diciamo, visto che la musica deve avere questa dimensione di espansione, indirizzarsi verso un po' il resto dell'universo, c'è questa, come dire, questa contrapposizione tra la sua musica, che è una musica molto particolare, molto apprezzata, seppure di nicchia, e poi invece questa musica commerciale che, insomma, dura una stagione e poi passa. Ma, devo dire che sta uscendo molto dalla nicchia, no? Nel senso che c'è tantissimi, anche delle nuove generazioni, che vogliono tornare a una musica che abbia un contenuto, un'essenza. A me piace moltissimo anche la musica come divertimento, le canzoni. La canzone è una forma straordinaria, perché è un'essenza, cioè mette insieme veramente un concentrato di potenza e di espressione. Però c'è una musica che anche ha un'altra funzione e oggi lo vediamo sempre più, che ci sono tantissimi giovani che cercano della musica un rapporto più profondo, un rapporto diverso, anche senza parole, perché, diciamo, il pianismo di certa musica può essere considerato una specie di cantautore senza parole, no? Oggi i musicisti tendono, i compositori, a suonare la propria musica, non è come una volta, no? Una volta c'erano i direttori d'orchestra, gli interpreti, quindi si divedeva. Oggi invece si va in prima linea, proprio per quello, no? Perché c'è bisogno di una cosa molto diretta e precisa. C'è un rapporto che è una comunione tra chi ascolta e chi suona. Parliamo del concerto di questa sera, una location molto suggestiva, davvero molto particolare, l'isolotto, con anche un'illuminazione molto particolare. Ecco, che cosa, qual è, diciamo, il messaggio, ma più che il messaggio, forse le emozioni che si vogliono trasmettere al pubblico. Diciamo che in questo evento ci siamo trovati, e ci tengo a dirlo, molto in sintonia con le officine Lucore, che hanno fatto un lavoro straordinario, per cui sono molto contento. Penso che gli obiettivi oggi siano sempre di controtendenza, no? Diciamo di tornare a qualcosa di profondo, di essenziale, di nutriente, e il pubblico lo recepisce, perché nel profondo di ognuno di noi c'è questa parte che magari oggi, col caos superficiale, no? Si va, la musica la usiamo un po' come salvagente, no? Invece è interessante andare in profondità, scendere, diciamo, essere più dei subacquei che non dei natanti in superficie, perché nelle profondità troviamo l'essenza di ognuno di noi. E la musica ha una di queste funzioni, non solo oggi, ma l'ha sempre avuta, fin da quando, diciamo, nel mito biblico, abbatteva le mura di Gerico, per esempio i poteri del suono, sono straordinari, perché ci possono aiutare a livello individuale e sociale. Quindi è una funzione che sta riprendendo il suo posto, il posto che merica. La musica come arte è primordiale, con la M maiuscola, non soltanto come così, è un po' per annacquare e per non ascoltare il silenzio, che invece è molto importante. Un carissimo saluto ai telespettatori di Canale Sicilia, siamo in una terra meravigliosa, sono veramente felice di fare questo concerto e a prestissimo. Grazie. Ciao a tutti. Siamo con Piero Papa, componente dell'Associazione Officine Lucore di Gioiosa Marea, un grande evento, quello di questa sera, un artista di grande calibro che si esibisce in uno spettacolo davvero suggestivo, davvero particolare. Ecco, com'è nato questo evento? Ma questo evento, diciamo, che è la terza edizione intanto di Notte di Luna Piena. Un evento che quest'anno siamo onorati di ospitare il grande maestro Roberto Cacciapaglia, che grazie alla sua amicizia, anche grazie al suo legame con Gioiosa, che ha voluto omaggiare a tutti i suoi compaesani, questo concerto gratuito, praticamente. C'è davvero un grosso lavoro dietro questo evento, anche perché, lo ricordiamo, si tiene in una location molto particolare, però anche molto, come dire, molto suggestiva, ma anche un po' particolare dal punto di vista logistico, che è l'isolotto, ci sarà un'atmosfera molto particolare, le fiaccole, le luci, è comunque un evento importante, anche dal punto di vista logistico da organizzare. Sì, quest'anno, diciamo, non abbiamo voluto fare il solito concerto, diciamo, nella piazza. Abbiamo scelto insieme al maestro Cacciapaglia, all'isolotto, malgrado, diciamo, tutti i problemi tecnici da affrontare, perché, vi ricordo, dobbiamo portare un pianoforte di 600 kg, un gran coda sul palco che questa mattina abbiamo montato all'isolotto, però, malgrado questi problemi tecnici, abbiamo voluto fare, diciamo, questo concerto in un luogo naturale, un luogo suggestivo, in riva al mare, con il mare, le fiaccole, le stelle, una location diversa, ma più a contatto con la natura. Un palcoscenico naturale. Esatto. E altre iniziative in programma con l'Officine Lucore? Ma noi già quest'anno abbiamo fatto una mostra fotografica di Gianmarco Vetrano, che è stata in Piazza Forzano una settimana, e questo è il secondo evento che organizziamo per quest'estate. Poi altre iniziative le metteremo in cantiere quest'inverno. Grazie.